Iniziamo! Ci scaldiamo! Passo e chiudo! Un braccio e l'altro! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora! Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno! Stop! Apro e chiudo, apro e chiudo! Scaldiamo le braccia! Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno! Stop! Da qui! Salgo e scendo! Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora! Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno! Mi fermo! Da qui! In alto! Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno! Ancora passo e chiudo, ma dondolo! Le braccia avanti e indietro, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, gli ultimi otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno! Passo puntato, flessione laterale del busto e sul braccio, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno! Mi fermo! Mi fermo! Fletto, fletto, solo fletto, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, solo fletto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, tre, quattro, cinque, quattro, tre, e ancora fletto, fletto, ancora un giro! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno! Torsione! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno! Allargo un pochettino le gambe e piego, piego, otto, due, tre, quattro, cinque, poco, poco, eh, sei, ci stiamo ancora scaldando, sette, otto, ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno! Molleggio, 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 mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, questo dopo un po' farà male, su, su, su e su, qui facciamo glutei addominali, l'ultima parte è riservata loro, su, certo che però manco un push-up, manco un push-up, li facciamo adesso, dopo questo li facciamo. E sto, già passato, già passato, mannaggia, qui, vado, oh, su, pensavo pezzo, su, su, e su, 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 e su, 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 su. Su, 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 Giorgio, ci sei ancora? E Giorgio c'è ancora, è scappato con i glutei. su, 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 su Poi vi faccio fare i pettorali Perché non l'abbiamo fatti Sforbicio, sforbicio Qui Forza Schiena a terra Se volete potete anche mettere il braccio in alto Aiutate un pochettino di più a tenere la schiena a terra Forza E quando non ce la fate più Mani sotto i glutei Stop E Cerchiamo un salto Con Un peso Cosa dobbiamo fare? Push up Passo il peso Push up So 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 Come va So So Stop Allungo Non so soddisfatto nei glutei Veloci Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sei Oto Nove Dieci Dieci Nove Oto Sei Sei Cinque Cinque Quattro Tre Due Ancora Fino al suono Della campanelletta Veloci Su Su La gamba Non vuole salire Ma sale Anche se non vuole Non ci interessa Bene Se brucia Stop Rilascia un salto Pronti per l'altra? Via Oto Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Oto Continuo Anche perché siamo lontani dai 60 secondi Quindi Vado Su 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 E Continuo Su 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 Non mi fermo E stop Adesso Come va? Non è finito Plank Spingo indietro Avanti E indietro Avanti Indietro Bair E Dietro Buyur Planck Dietro Bair Push up position Dietro Bair Push up Dietro Bair Push up Dietro Bio Push up Dietro Dietro tablet Dietro Push up E' push up viet push up viet viet push up viet 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 push up viet stop a lungo allungo lungo faccio passare un braccio vicino al ginocchio e allungo e allungo salgo l'altro e centro da qui mi siedo srotolo pian pianino la colonna giro le spalle respirone e giù ancora uno su e fuori tutto giù bravissimi grazie 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 grazie